Questo è un ponte che è stato costruito nel 1946 dal Genio Militare che oggi non è più transitabile. Questo non consente a circa 60 aziende di recarsi nelle proprie attività con un grave documento non soltanto per l'economia di quel territorio ma anche e soprattutto per l'ordine pubblico. Immaginiamo un po' cosa significa mantare dipendenti di circa 60 aziende agricole. Noi abbiamo convocato un tavolo di concertazione con il Ministero della Difesa, con il Genio Militare, con l'assessorato regionale dei lavori pubblici per trovare immediatamente una soluzione. Anche lì la provincia nel momento in cui non dovesse ricevere le risposte adeguate cercherà con i propri tecnici di trovare una soluzione alternativa di percorribilità in modo tale che si possa raggiungere facilmente l'azienda. Oggi c'è anche il pericolo del pronto soccorso perché mi dicono che se un altro giorno c'è stato un dipendente che è stato male, l'autombulanza non era potuta andare lì proprio in mancanza della transitabilità.